Mister Andrea Darielli, l'unico, tra virgolette, confermato alla Virtus Orsogna che farà la B1, come giusto che sia, ripescaggio no, però avevate meritato la promozione insieme con la squadra della Teatina. Andrea, allora, tutto rivoluzionato. Abbiamo cambiato tutto il roster, siamo partite da Luigi, paleggiatrice dell'Anderlini Modena, poi abbiamo preso Giada Guarini da Napoli, però ex Isernia sempre B1, al centro Monte Chiarini, l'esperienza d'Altino e abbiamo preso Natalia, una ragazza serba che stava anche lei con l'Anderlini 2001, schiacciatrice abbiamo preso Gloria Santin da Santa Teresa Riva siciliana, però lei di Torino. L'altra banda è Carlotta Romani e insieme il ritorno di Emanuele Abosio, vecchia conoscenza nostra. Come opposta c'è Camilla Orazzi, sempre d'Altino, che ha deciso di rimanere qui in Abruzzo e come altra opposta abbiamo preso Michela Romano. Come libro è Margherita Dorigatti da Trento, anche lei sono diversi anni che fa la B1, un roster prevalentemente giovane, abbiamo deciso di fare questa scelta perché comunque abbiamo puntato su delle ragazze molto interessanti dal futuro sicuramente Rosio, ci hanno premiato e noi l'abbiamo chiamato e siamo contentissimi di questa soluzione, grazie anche al nuovo direttore sportivo che è Giorgio Tenaglia, il quale è sceso proprio perfettamente nella parte, abbiamo laureato tantissimo in questi mesi. E anche l'aiuto di Alberto Valente che è in pressito dell'impavida ma rimane comunque lì a dare una mano, lui come direttore generale ci sarà una grossa mano. La società si vuole strutturare per il livello che sarà il campionato e la famiglia Tenaglia continua a fare grossi sacrifici. La squadra diciamo che al 99% è conclusa, mancano un paio di pedine però stiamo lavorando con società limitrofe per una collaborazione a livello anche abruzzese perché è giusto che queste società puntino su ragazzi interessanti. Tre abruzzesi? Tre derby, bellissimi sicuramente, io ho ancora in mente le immagini del derby con Chieti sia andata che ritorno dove i palazzetti erano veramente gremiti. Speriamo di fare un campionato, tutte e tre, perché io penso che Chieti abbia allestito un roster di tutto rispetto, noi Altino speriamo di galleggiare in mezzo alla classifica.